per il porto turistico di Imperia. Tutte queste barche che vedete a breve potrebbero essere sfrattate, quindi dover abbandonare la Prodo. Il perché ce lo spiega l'amministratore unico della Go Imperia, Vincenzo Costantini. La Go Imperia è la società che ha la concessione della Prodo. Con le immagini indugiamo appunto su queste barche, su questi molli, che però potrebbero svuotarsi già nei prossimi giorni se i proprietari, chiamiamoli così, dei posti barca non pagheranno? Sì, hanno ricevuto diversi avvisi dall'inizio dell'anno. Go Imperia, ricordo, ha una concessione di quattro anni che è iniziata il primo gennaio di quest'anno e da quel momento si è fatta carico in prima persona della gestione del porto. Ovviamente ha dovuto stabilire delle tariffe degli oneri di gestione che derivano da elementi certi, cioè la sostenibilità del porto stesso e dei lavori che è necessario fare previsti nel budget previsionale del 2015. Lavori di ottimizzazione e di riparazione, anche di creazione ex novo che su opere a terra e di altro tipo per mantenere la funzionalità del porto. Non pagano aducendo quale motivazione? Per esempio che non vengono erogati i servizi all'altezza. Ricordiamo che ad esempio il porto turistico di Imperia non esiste sistema funiario. I servizi principali che il porto deve offrire sono scritti nel contratto. Il primo servizio fondamentale è l'approdo. Queste barche sono qui sul molo, sono approdate, ho buttato l'ancora, sono ferme qui e sono protette dal mare aperto. Il secondo servizio è l'erogazione di acqua e luce. Il terzo e altri a seguire la sicurezza, il controllo, la fornitura di notizie meteorologiche. Chi non ha pagato e decida di non pagare è perché contesta anche il quantum da pagare. Qualcuno addirittura ha proposto di pagare la metà di quanto già pagavano con Porto d'Imperio S.P.A. Ma Porto d'Imperio S.P.A., ricordo, aveva un criterio particolare per definire gli oli di gestione che era pari all'1,5% del prezzo di acquisto e che portava una discontinuità e un'ingiustizia di fondo perché due proprietari che acquistavano un 12 metri hanno pagato due prezzi diversi nel corso del tempo per cui uno ha pagato 120.000 euro, l'altro 200.000 euro. Chi ha pagato 200.000 euro paga molto di più di oneri di gestione. Noi abbiamo calcolato invece gli oneri di gestione sulla sostenibilità sulle spese, a copertura delle spese e a copertura degli investimenti minimi per salvaguardare l'operatività del Porto. C'è anche chi a questo punto rischia una denuncia penale? Certo, perché se non hai titolo a permanere su uno specchio acqueo, incorri nel codice della navigazione, quindi nell'occupazione abusiva di area demaniale, scatta automaticamente la denuncia alla Capitaneria di Porto, agli organi competenti e poi non diventa più un problema amministrativo pago o non pago, diventa tutto un altro discorso. Con questi soldi che devono entrare, voi cosa avete intenzione di fare per completare, per quanto è nelle vostre possibilità, la Prodo? Tutto quello che manca. Andando in giro anche per i porti vicini, per vedere un po', per prendere degli spunti, per migliorare anche il tipo di servizio che si può offrire ed essere quindi sul mercato. perché altrimenti il diportista non viene, ci sono molte cose da fare. Mi parlava per esempio della torre degli ormeggiatori. Per esempio c'è la torre degli ormeggiatori che è presente, è una delle opere a terra che non è completata, anzi non esiste proprio, è una di quelle che dovremmo fare come per esempio il punto di rifornimento di carburante, che non c'è, cioè è impossibile pensare a un porto che possa vivere da solo con 1300 barche, senza punto di riferimento per carburante. Cioè nonostante un bilancio, quello della Goimperia, che sia pure di poco, si chiude in attivo? Il bilancio della Goimperia del 2014 si chiude in attivo, pur essendo entrati a metà anno, dopo metà anno e aver fronteggiato una serie di emergenze interne, organizzative, e anche del sostegno per esempio, quello in positivo, dell'evento delle vele d'epoca, più altre cose, alla fine siamo riusciti, bilanciando oculatamente le risorse, a chiudere il bilancio in attivo. E voglio ricordare che Goimperia nel corso dello scorso anno ha dato lavoro a più di 40 persone. Come avete sentito, il bilancio della Goimperia, seppure di poco, si chiuderà in attivo il bilancio 2014, ma se non entreranno ulteriori risorse nelle casse della Goimperia, che è la società concessionaria del porto turistico di Imperia, il bacino è destinato a svuotarsi.